Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, amministratore del canale Commedia All'Italiana. Oggi è uscito sul canale ufficiale dell'Oniro il nuovo video ufficiale del nuovo singolo appunto, lanciato da Ultimo diversi mesi dopo il suo ultimo album, Colpa delle favole, album che io ho recensito, a cui ho fatto una reaction, che io ho amato, come anche i precedenti, insomma, un artista che io, chi mi segue lo sa, amo molto. La canzone in questione è una delle mie canzoni preferite dell'album che però ho imparato ad amare nel corso del tempo. Credo di aver detto qualcosa di diverso nella reaction dell'album ad aprile, non che abbia detto, non so, che mi aveva fatto delle cattive impressioni, assolutamente l'ho subito ritenuto una bella canzone, però ho cominciato ad amarla e a capire quanto valesse effettivamente con il passare del tempo, dei mesi, ascoltandola come va fatto, perché poi una canzone la si riesce sempre ad amare magari al secondo, al terzo, al quarto ascolto e così via, così come un film, magari tu lo vedi la prima volta e ti fa un certo effetto, la seconda è già diverso. Quando fuori piove, un bel titolo innanzitutto, una canzone bellissima, il video tiene testa la canzone, forse anche più bella della canzone perché abbiamo sia un Niccolò che recita, come spesso ha fatto nei singoli che ha lanciato con video ufficiale, soprattutto La colpa delle favole in poi, di singoli estratti da questo album, dai tuoi particolari che Fateme Cantare hanno anticipato l'album, dai tuoi particolari singoli di Sanremo 2019, Rondine e Guinzaglio, la miglior canzone dell'album secondo me, Ipocondria, Piccola Stella, che però diciamo che era qualcosa di più di un video ufficiale perché live all'Olimpico di Roma, il 4 luglio, tanta roba. Niccolò recita, quindi Niccolò attore, ma guarda anche la camera, guarda noi, a un certo punto, nel momento più intenso della canzone, ci canta una strofa, praticamente c'è la grida in faccia, forse la grida a qualcuno in particolare, chissà, e le emozioni lì secondo me si triplicano. Insomma, il video è molto bello, la canzone, ripeto, ho imparato ad amarla sempre di più nel corso del tempo, la trovo bellissima ad oggi, ed è una canzone che mi rispecchia molto, come però la maggior parte dei brani di questo album, e in generale della discografia di Niccolò Morigone, di Ultimo, che rimane comunque secondo me il miglior giovane degli ultimi anni, il miglior esordiente degli ultimi anni, che ha fatto tantissimo in poco tempo, così tanto in così poco, e che spero di riuscire ad andare a vedere a Pescara nel prossimo luglio fra diversi mesi, perché fortunatamente verrà vicino alla mia città e per me sarebbe qualcosa di straordinario, perché poi Ultimo non è una moda, no? Questa è la differenza. Magari anch'io, nonostante non mi senta come i giovani di oggi, mi affeziona qualcuno, poi mi passa perché mi diverto, lui è un idolo perché riesce a trasmettere delle emozioni uniche, perché fa musica in un momento musicale in cui di musica ce n'è veramente poca, in un periodo storico in cui i giovani non ascoltano la musica, arriva lui e cambia tutto, rompe gli schemi e rivoluziona la scena musicale degli ultimi tempi. Fatemi sapere nei commenti se l'avete visto, se volete vederlo, cosa ne pensate, insomma io vi invito a farlo, canale di Oniro, Quando fuori piove, il nuovo video ufficiale di uno dei bellissimi singoli di Ultimo, di questo suo ultimo album, in attesa magari di un prossimo, speriamo arrivi presto, per me la migliore rimane sempre l'unica guinzaglio, c'è la reaction anche del video di quella canzone che è strabitoso, anche questo è molto bello e Quando fuori piove, con il passare del tempo, mi è piaciuta sempre di più, mi è entrata sempre più nel cuore. Ciao a tutti, sempre e comunque via il cinema italiano e viva questa musica, viva Ultimo. Ciao ragazzi!